Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video che vuole essere un tentativo di vlog No dai, più che tentativo vuole essere un vlog, scusate l'abbigliamento stra-casalingo Ma fa caldissimo qui a Roma oggi È il secondo giorno d'estate perché oggi è 22 È mercoledì 22, se non erro Io mi gratto gli occhi come al solito scordandomi di essere truccata E sembra che ho più occhiaie di quelle che ho in realtà Comunque mi stavo dicendo, si fa caldissimo oggi qui a Roma Sono tornata da poco da lavoro e sui mezzi e comunque camminando per strada fa un'afa assurda Ma non mi sto assolutamente lamentando, anzi sono felicissima che è finalmente arrivata l'estate Perché questo tentativo di vlog oggi, che penso durerà oggi e domani Allora, sì, ora mi lamento Mi lamento con me stessa per la mia sbadataggine e cretinaggine In pratica avevo girato il video che dovevo andare online venerdì sul canale Perché vedo ombre Perché ho aggiunto una programmazione Cioè ho creato finalmente una programmazione per il canale E pubblicherò un nuovo video ogni venerdì alle ore 18 Ebbene sì, quindi avevo già registrato il video che dovevo andare online venerdì E dovevo solo montarlo, fare delle foto e finire di montarlo Ed era il video in cui vi mostravo finalmente, vi parlavo finalmente dei nuovi tatuaggi Mi piaceva molto come era venuto il video Era molto molto sentito da parte mia Solo che sono cretina Passatemi il termine Perché ho, per sbaglio, cancellato il file E cancellatolo definitivamente anche dal cestino Ho provato a scaricare qualche programma per riuscire a recuperare il file Anche dopo averlo cancellato dal cestino Ma non c'è stato un modo Non ci sono riuscita E quindi nulla, lo dovrò sicuramente rigirare Ma dato che è uno di quei video che sento molto Non mi va di rigirarlo, tra virgolette, controvoglia O per forza o per obbligo Quindi ho detto, pur di non lasciare scoperto il video Quindi di non pubblicare venerdì Faccio questo vlog Che è tanto che non faccio un vlog Ci sta ogni tanto Anche perché in questi giorni ho la parlantina Mi si è sviluppata una forma acuta di parlantina E quindi ci sta Avevo tante tante cose da dirvi In questo video sui tatuaggi mi ero anche emozionata Cioè mi ero messa... Ma vedete? Già, non lo so È un periodo strano per me I miei ormoni probabilmente Ma piango in continuazione Non di tristezza Di commozione, di gioia, di felicità Di un insieme di cose E quindi sì, mi ero commossa facendo quel video E mi piaceva molto come era venuto Mi piaceva come avevo spiegato Magari in maniera confusionaria Però ho molto sentito i miei tatuaggi Ma ci sarà occasione per rifarlo Sicuramente Lo vedrete a breve sul canale Ed oggi Vi mostro un'anteprima dei tatuaggi Se non vi scandalizzate dei miei piedi Che ieri ho camminato un sacco E... sì Mi uccido i piedi A camminare con le scarpe da ginnastica D'estate Solo che andare in sandali Per Roma Non è il massimo Quindi se non vi scandalizzate Dei miei piedi Vi mostro in anteprima i tatuaggi Ovviamente devono ancora guarire Questo qui è uno Ed è all'interno del piede E questo qui è l'altro Sull'osso della caviglia All'esterno del piede Ora accompagnatemi a fare merenda Anche se è tardi Sono le sei ormai Ma vado a cena fuori stasera Questa è la meravigliosa cucina Vado a cena fuori stasera E mangerò quindi Per le nove e mezza Nove E quindi ho fame E penso di mangiarmi un po' d'anguria Se non faccio un danno In questo preciso momento Perdonate i miei capelli E perdonate la luce Che è un po' improbabile Perché c'è il sole Un po' di qui e un po' di là Ma volevo prendermi Un po' questo momento di relax Seduta per terra Come nei miei soliti momenti di relax Per parlarvi di un argomento L'ipocrisia Diciamo così Allora Non so come iniziare l'argomento Non so se avete mai sentito parlarne Ma credo proprio di sì Ormai tra noi giovani Perché mi sento ancora molto giovane Lì ci sono i vestiti Che mi sento colta Fantastico Tra noi giovani Non voglio dire non si parla d'altro Ma è molto utilizzata Nonostante se ne parli poco Soprattutto Sto parlando di un'applicazione Ovvero di Tinder Allora Premetto che non vi riporto Il mio caso personale O non vi parlo di esperienze personali Perché È una scelta molto ben ponderata Quella di non farlo Ma comunque voglio parlare Di questa applicazione in generale È un fenomeno sociale È un fenomeno sociale anche quello Secondo me E sarebbe da Ignoranti Stupidi Ed ipocriti Non ammetterlo Di conoscere questa applicazione Anche perché Non ci trovo assolutamente Niente di male Personalmente Appunto Vi voglio parlare un po' di ipocrisia Nei rapporti in generale Partendo da questa applicazione Che per chi non la conosce Ve la spiego brevemente È un'applicazione Per fare incontri Diciamo così Anche se suona male È un'applicazione Basata principalmente Sull'impatto fisico Si caricano foto Tramite un profilo facebook Si caricano le proprie foto Una propria descrizione Si imposta un range Di chilometri ed età E sesso della persona Che si vorrebbe incontrare Tra virgolette E Tramite Il primo impatto Quindi tramite una foto E una breve Tramite delle foto E una breve descrizione Si decide se l'altra persona Ci piace oppure no Si apre La chat Diciamo Si ha la possibilità Di parlare con l'altra persona Solo se il like è ricambiato Questo in brevissimo tempo Cioè Spiegata proprio In brevissimo È ovviamente Un'app stupida Nel senso che si basa su Un impatto fisico Dato da una foto Ma è uno dei tanti modi Se non Uno dei modi principali In cui si conosce gente In questo periodo E mi porta tanto L'utilizzo di quest'app Perché con qualsiasi persona Dal vivo io ne parli La conosce La usata O ti dice almeno O tutti i miei amici Che ce l'hanno L'utilizzo di questa applicazione L'utilizzo di questo metodo Per conoscere nuove persone Mi fa riflettere tanto Mi fa riflettere nel momento in cui Diventa l'unico modo L'unica alternativa Per conoscere qualcuno Perché Mi ritrovo a pensare Ma Un uomo Che ti ferma per strada Per chiederti Boh Per farti un complimento Per chiederti il numero Per chiederti un contatto Per fare un approccio Esiste Perché secondo me no Non esiste più Cioè Io sono una fautorice Della condivisione Del social Di internet in generale Di queste applicazioni Amo questo mondo Ne faccio parte E lo amo Mi è sempre piaciuto Però Mi piace come alternativa Come plus A quello che è la vita reale Invece Questa applicazione Ma non solo questa Perché se ne sono poi sviluppate Ovviamente dopo il boom di Tinder Se ne sono sviluppate tantissime altre Stanno un po' modificando Secondo me I rapporti Interpersonali Questa è l'esperienza Che vi riporto da me E dalle persone Che conosco Che Che hanno avuto queste esperienze Hanno proprio modificato I rapporti interpersonali Non si riesce più Ad avere un rapporto Normale Con qualcuno Fatemi sapere Se questo è tipo Il mio pensiero Perché È ristretto Alla cerchia di persone Che conosco E alla mia esperienza Personale Seppure Voi avete avuto Quest'impressione È come se non si riescesse più A avere un rapporto normale Si si è Barricati Dietro uno schermo Si vive di pregiudizi Di prime impressioni Di impatto fisico Ma non si riesce mai Veramente a conoscere Una persona E a Avere Un rapporto normale Non so Fatemi sapere Se questo è il mio momento Di pessimismo cosmico O Se anche voi avete avuto Quest'impressione Se anche voi O qualche vostro amico Utilizzate applicazioni del genere La vostra esperienza Mi piacerebbe creare Giù nei commenti Un dibattito a riguardo E se poi Vi può interessare Come argomento Ci faccio proprio Un video apposito Anche se è già 5 minuti Che parlo di questa cosa Buongiorno Oggi è il giorno dopo Ovvero Giovedì 23 Sono di cortissima E ritardissimo Come praticamente Tutte le mattine Questa è la mia routine quotidiana Prepararmi Stra di corsa Sono le 10.42 Dovevo uscire esattamente 10 minuti fa È tutto nella norma Arrivo poi sempre in orario Al lavoro Nulla di strabiliante Però insomma Sì Faccio sempre tutto di corsa La mattina Vi volevo mostrare Il mio outfit E stamattina Ho fatto tardi Perché Non so più cosa mettermi Fa veramente caldo Però al lavoro Devo andare comunque Coperta E quindi Non so mai cosa mettermi Ho su questa magliettina E questi pantaloni Che sono di quelli Un po' larghi Comodi Freschi Solo che ho solo Questo paio di pantaloni Fatti così Devo andare assolutamente A comprarne altri Perché l'estate è lunga E la passerò quasi Tutta al lavoro E quindi Bisogna trovare una soluzione In più Vi volevo far vedere Il mio nuovo amore Che è Questo rossettino qui Scusate Il tremolio Della mano mattutino Ed è un rossettino MAC Che mi sono comprata Era tantissimo Che non compravo Un rossetto Comunque un cosmetico Per me Era anni che volevo questo Ed è Sicuramente L'avete riconosciuto È della linea matte Ed è Velvet Teddy E ve ne ho parlato Anche in un video Su Wiggers Quello che è uscito Martedì scorso E trovate sempre Il mio link a Wiggers Giù nell'info box Andatelo a vedere Ehm Ora Mi preparo Al volo Il pranzo Cioè Devo solo metterlo Nel contenitore Per portarmelo via Riempio la bottiglietta d'acqua E fuggo Ed ecco qui Il mio leggerissimo Pranzo di oggi In salata di pollo Con la maionese Mood of the day In pausa pranzo In ufficio In salata di pollo